Ciao a tutti e benvenuti e bentornati sul canale e al consueto appuntamento con le news della domenica mattina. Partiamo subito con un nuovo annuncio di un ospite al Napoli Comic Con 2018, un ospite molto importante, ovvero Frank Miller. L'autore dei Ritorno del Cavaliere Oscuro, 300 e Sin City, solamente per nominare alcune delle sue opere, sarà infatti ospite al Napoli Comic Con domenica 29 e lunedì 30 aprile, dopo essere stato ospite in Italia anche due anni fa a Luca Comics & Games. Per gli appassionati di anime invece c'è un nuovo ospite dal Giappone per l'Etna Comics 2018, ovvero Hiromi Matsushita, animatore famosissimo per il suo lavoro in serie di immenso successo come Dr. Slampi Arale, Doraemon, Astro Boy, City Hunter e Hunter Hunter. Nato a Nagano, Matsushita è un animatore, principalmente di anime d'azione, regista d'animazione e scenografo, formatosi all'interno dello studio live, oggi tra le eccellenze di Studio Vieun. Tra i suoi lavori di maggior successo, la cura della scenografia, la direzione dell'animazione e il character design, degli anime Mashi Niro Wataru, Keroro e Nobu Nagan. Attualmente Matsushita sta lavorando alla scenografia e alla regia della nuova animazione Muio R.O. Gisburo of Supernatural Investigation, che uscirà proprio nei prossimi giorni. E solo poche settimane dopo sarà al centro fioristico Le Ciminiere di Catania, grazie alla collaborazione con l'associazione culturale Man Games, per raccontare tutte le tecniche che gli hanno permesso di lavorare ad anime intrabbontabili, che hanno accompagnato l'infanzia di milioni di appassionati. È stato poi annunciato un manga ispirato all'attesissimo film L'Isola dei Cani di Wes Anderson, e a realizzare questo manga sarà Minetaro Mochizuki, autore di Dragonhead, Chisakobe, Tokyo Kaido. Questo fumetto non ricalcherà la storia del film, e si svilupperà in tre capitoli in uscita a maggio sulla rivista Morning in Giappone dell'editore Kodansha. Mentre il film uscirà nei cinema italiani il 17 maggio, ed è un film d'animazione in stop motion, scritto, diretto e coprodotto da Anderson, ambientato in Giappone nel 2037. E ancora a proposito di Frank Miller, Magic Press ha annunciato la pubblicazione del suo lavoro più recente, ovvero Exorcist. Per questo fumetto, che è uno spin-off del famosissimo lavoro di Miller 300, adattato anche in film, l'editore seguirà la pubblicazione originale di Dark Horse. Presentando la storia in cinque numeri spillati, formato 17x26, al costo di 5€ ciascuno, e dalla periodicità mensile. Il primo volume sarà distribuito in fumetterie e librerie il prossimo maggio, e sarà presentato in anteprima al Napoli Comic Con, in presenza dello stesso Frank Miller. E sempre a proposito di autori occidentali, è stato annunciato che Amazon adatterà due fumetti di Jonathan Hickman per la televisione. Sono state messe infatti in produzione dal colosso Amazon Studios due serie TV basate sui fumetti East of West e Transhuman. E a capo di questi due progetti, tratti dalle opere dello sceneggiatore Jonathan Hickman, come produttore esecutivo un altro fumettista molto molto conosciuto, Robert Kirkman, autore di Walking Dead. Tutti i due fumetti di Hickman sono pubblicati da Image Comics. Transhuman è una miniserie di fantascienza del 2008 disegnata da J.M. Rinkwett, che racconta le vicissitudini di un marito e una moglie divorziati che lavorano rispettivamente per due aziende rivali, le quali si occupano di genetica e robotica. Mentre East of West, iniziata nel 2013 e tuttora in corso, è disegnata da Nick Dragotta ed è un western futuristico che racconta le avventure di morte e i suoi compari, intenti a salvare il mondo dall'apocalisse. Daniel Klaus, un grandissimo autore americano, autore di capolavori come Ghost World, David Boring e Patience solamente per dirne tre, ha pubblicato un fumetto inedito che festeggia gli 80 anni di Superman, ma anche i 57 dell'autore stesso. La tavola che appunto sta scorrendo mentre vi parlo è stata postata sull'account Twitter di Klausi il 14 aprile, giorno del suo compleanno, un po' in anticipo rispetto al 18 aprile, giorno in cui nel 1938 uscì la prima storia dell'Uomo d'Acciaio. È stato mostrato il primo trailer del live action di Bleach, ispirato ovviamente al manga di Taitekubo, pubblicato in Giappone da Shueisha e in Italia da Planet Manga. Il film è incentrato sul primo ciclo di storie contenute nei primi otto volumi del manga, quindi l'incontro di Ishiko con Rukia, il suo venire a conoscenza dei primi membri della Soul Society, dei Quincy, quindi sicuramente una parte molto molto corposa, come vedete anche dalle immagini del trailer, per quanto riguarda questa storia. Il film sarà distribuito nei cinema giapponesi a partire dal 20 luglio 2018. Ci saranno alcuni nuovi capitoli speciali per alcune serie apprezzate e concluse in passato, uno di Tonari no Kaibutsu-kun, My Little Monster di Robico, che tornerà con un nuovo capitolo, interamente a colori, sul numero del 24 aprile della rivista Dessert. Nello stesso giorno uscirà un capitolo speciale di 47 pagine per Kaicho Wa Maizama di Hiro Fujisara, sulla rivista Lala di Akusensha. Successivamente alla conclusione della serie anime, con il capitolo 46 di Ancient Magus Bride di Koro Yamazaki, si appresta ad entrare in un nuovo arco narrativo, l'arco dell'Accademia, Gakuin. Lo shoujo manga di An Angel di Yukiro Sugisaki riprenderà la serializzazione con il numero di maggio della rivista Asuka. Il manga pubblicato in Italia da Planet Manga era fermo dall'ottobre 2010 al quindicesimo volume. Eichi Roda, il celeberrimo autore di One Piece, è stato recentemente nominato cittadino onorario della prefettura di Kumamoto. Nel 2016, in collaborazione con la municipalità locale, l'autore aveva lanciato il progetto One Piece Kumamoto Fuko Project, volto a raccogliere fondi per la ricostruzione dal terremoto che ha colpito la zona il 16 aprile 2016, causando danni e anche 49 vittime. È tempo di chiusura per la rivista manga mensile Aria della Kodansha, che cesserà la pubblicazione con il numero del 28 aprile. Molti manga che ospitava, come Alice in Marderland di Kaori Yuki, passeranno su altre riviste, mentre i più sfortunati termineranno prematuramente. Kouji Seou non si ferma. Dopo la conclusione del suo recente manga Fuka, l'autore pubblicherà a giugno su Shonen Magazine un nuovo manga a cui sta già lavorando. Per sancire la conclusione del manga è stato poi pubblicato un video musicale con il brano Wings of Light, cantato dalla doppiatrice Lin, che nella serie anime doppia la protagonista. Conclusione in vista per il manga Soubuteiko Auzubeshi di Kazuhiro Fujita, che per dichiarazione dello stesso autore sarebbe al culmine del suo arco finale e mancano solo una o due montagne da scalare. Conclusione anche per Dagashi Kashi, pubblicato in Italia da J-Pop, che terminerà in maggio con il volume 11. In questa occasione ci sarà anche un'edizione speciale del volume che comprenderà una figura in edizione limitata della protagonista Otaro Shidare, al costo di 3.042 yen, circa 23 euro. E una nuova opera è in arrivo anche per Hiroshi Fukuda, autore di Mushibugio. Questa nuova opera esordirà il 25 aprile sulla rivista Shonen Sunday e si intitolerà Gono Sekai, il mondo dopo. Il nuovo manga si incentrerà su un trio di amici, due fratelli e una ragazza, tra i loro rapporti e un inaspettato incidente. E poi ci sono nuovi anime che andranno ad arricchire il catalogo anime di Netflix, proprio in questo mese di aprile, dopo aver visto un marzo incandescente. In questo mese è il turno di Aggretsuko, Aggressive Ratsuko, una serie basata sul panda rosso Retsuko, un personaggio ideato da Sarrio. La storia è incentrata su Retsuko, una panda di 25 anni impiegata come contabile di un'azienda. Costretta dai superiori e dai colleghi ad eseguire compiti sempre più scoccianti, come rimedio per sfogarsi va da sola al karaoke a cantare canzoni death metal. In aggiunta, negli scorsi giorni sono state caricate su Netflix anche le prime due stagioni di Vampire Night e il film Il Giardino delle Parole. Per questo video è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate delle notizie di questa settimana, come al solito qui sotto con un commento, lasciate un like che è molto importante per aiutare il canale se vi è piaciuto il video, aprite il box informazioni sempre pieno di info utili, iscrivetevi al canale attivando le notifiche se non lo avete ancora fatto, e per chi sarà presente alla fiera partenopea noi ci vediamo al Comic Con. Alla prossima! Grazie a tutti!